Buongiorno a tutti, sono la Presidente International School di Como, vi faccio entrare stamattina nelle mie classi che in questo momento sono online e virtuali. Eccoci qua, gli insegnanti sono online con i nostri studenti, iniziano le attività spiegando, essendo collegati e guidando passo per passo l'attività che i ragazzi devono fare. I ragazzi hanno poi la possibilità di entrare in modalità interattiva con l'insegnante. I ragazzi hanno la possibilità poi di mantenersi in contatto con l'insegnante e di mandare messaggi nel caso in cui hanno bisogno di aiuto, di supporto. Per i piccolini abbiamo una piattaforma più semplice, più accessibile, ma il concetto è lo stesso, anche loro sono online, anche loro hanno attività che devono fare durante la giornata e sono in contatto con i nostri studenti. con i loro docenti.